Ho ricevuto una mail Ciao Red, scusa se ti ho detto tu ma ti seguo da tantissimi anni, ti considero un vecchio amico Ti scrivo per portare la tua attenzione nel mio caso di reincarnazione Fin da piccolo, oltre alla capacità di vedere e di comunicare con gli spiriti Ho il dono del ricordo di vite passate, soprattutto di quella precedente a questa attuale Due anni fa, in piena pandemia, e guarda che io sono uno dei famosi over 50 Che sono rifiutati di farsi sierare anche perché ero e sono perfettamente consapevole del piano degli oscuri Ho pubblicato un libro sul mio caso di reincarnazione Il libro è stato pubblicato sia in versione italiana che in versione inglese Creando reazioni piuttosto estreme in alcuni casi Perché nella mia vita precedente ero la moglie del famoso tenore italo-americano Mario Lanza Il libro si intitola Mario ed io Mario non si è reincarnato con me questa volta, ma siamo stati insieme in molte vite E so che ci reincarneremo insieme di nuovo Sono in costante comunicazione con lui e l'amore che ci ha legato è più vivo che mai ardente L'amore, quando è vero e puro, è il connettivo più importante dell'universo Chi si ama davvero non si perde mai Sono nato a Roma, ma meno di un anno fa ho venduto tutto e sono andato ad abitare in un paesino provincia di Bergamo In una valle circondata alle montagne vicino a un piccolo lago Volevo voltare pagina dopo tutto quello che ci hanno fatto in questi ultimi tre anni Ho in progetto di fare un film sulla vita di Mario Non è mai stato fatto e lui merita di essere ricordato Ered è un'anima splendente In vita era una persona di una bontà, di una generosità straordinaria Ma era anche molto sensibile e fragile come tutti gli artisti Purtroppo molto di quello che hanno scritto su di lui è falso o esagerato E questo mi addolora molto Anche per questo mi sono reincarnata Per rendere giustizia alla sua memoria e per celebrare l'uomo meraviglioso che è stato Puoi aiutarmi? Valeria Pugiotto Ciao Valeria Ciao, buonasera Senti una cosa, ma scusa Dunque tanto per cominciare Allora Valeria una cosa Noi in Italia non conosciamo molto Mario Lanza Era conosciuto più in America che in Italia, dico bene? Sì, perché lui è nato I suoi genitori erano degli migrati italiani di prima generazione Quindi lui quando è nato a Filadelfia Lui parlava sia italiano che inglese Perché abitava in questa parte di Filadelfia dove erano tutti italiani Tutti immigrati italiani E lui ha cominciato la sua carriera in America Poi è venuto in Italia Siamo venuti in Italia nel 57 Quando lui già stava male purtroppo Per cercare di ricostruire la sua carriera E quindi poi lui è morto a Roma Nel 59 Io sono morta cinque mesi dopo Nel 60 E quando ti sei reincarnata? Che anno sei nata in questa vita? In questa vita sono nata nel 67 Quindi sette anni dopo Sì Ma guarda Fin da quando ero molto piccola Io avevo due o tre anni Io me lo ricordo anche questa cosa Molto bene Diceva mia mamma Mamma portami a casa Portami in America Questa non è casa mia E appena io ho cominciato a scrivere A cinque anni perché ero un anno avanti Sono di febbraio Dovunque sui quaderni, sui libri Scrivevo USA, USA, USA Cioè ero ossessionata da questa cosa Che dovevo tornare in America E poi ero ossessionata con gli anni 50 Quindi mi piacevano i vesili degli anni 50 I cantanti, i film degli anni 50 Avevo proprio questa idea Ma fin da piccola sempre Che dovevo incontrare questo grande amore Questo grande amore che sarebbe arrivato da me Che avrebbe avuto i capelli neri E che sarebbe stata una persona famosa Quindi avevo questo ricordo molto forte I miei genitori per fortuna erano persone illuminate Quindi comunque loro credevano alla reincarnazione Soprattutto mia madre Però certo erano un po' preoccupati Perché io vedevo gli spiriti E gliene parlavo ai miei genitori Quando avevo otto anni Mia madre due volte mi ha portato la Scala Santa a Roma Per farmi benedire dall'esorcista Perché lei è molto cattolica Sì ci credeva però era preoccupata Quindi diciamo che ho avuto un'infanzia piuttosto surreale Ecco sotto molti punti di vista Ecco ma quando è che tu hai capito che eri? Cioè cosa è successo? Hai fatto una regressione? Cosa è successo? Come fai tu a sapere? Io ero la voglia Come ti chiamavi nell'altra vita? Betty Lanza Ah Betty Lanza Sì Intanto una cosa Mario Lanza è stato un grande tenore Sì Ecco diciamo Lui viene dopo Caruso Giusto? Come età Sì tra l'altro lui è nato Pochi mesi prima che Caruso morisse Cioè Caruso è morto nell'agosto del 21 Lui è nato il 31 gennaio del 21 Tant'è vero che lui diceva Cioè credeva di aver avuto in eredità la voce di Caruso E poi lui ha fatto un film su Caruso Il grande Caruso nel 1950 E lui quando ha fatto quel film era felicissimo Per lui era proprio il coronamento di un sogno Ma scusa ma tu ti ricordi queste cose? Cioè Io mi ricordo molte cose Mi ricordo quando lui mi ha chiesto di sposarmi E me lo ricordo molto bene a Los Angeles Perché noi ci siamo conosciuti tramite quello che era mio fratello in quella vita Che era suo compagno d'armi nell'aviazione Durante il servizio militare E questo mio fratello aveva una mia foto Che ogni tanto gli faceva vedere a Mario E lui diceva ma chi è questa bella ragazza? Finché un giorno lui gli ha detto Guarda che questa è mia sorella E quando è finita la guerra Sono andati al Cioè Mario ha seguito questo mio fratello a Los Angeles Anche perché dovevano fare uno spettacolo per le forze armate E un giorno lo ha portato a casa E quindi lì ci siamo conosciuti Io mi ricordo quando lui mi ha chiesto di sposarmi Un anno e mezzo dopo che ci siamo conosciuti Questo me lo ricordo E ho dei flash Mi ricordo molte cose Mi ricordo addirittura i suoi capelli Il toccare i suoi capelli Perché io sono una medium di tipo fisico Cioè io sento il tocco A parte che ricordo il tocco Ma sento anche il tocco degli spiriti Cioè loro mi toccano e io li sento E potrei dirti tante cose veramente Fermati un attimo Allora Intanto Il soffio dell'anima di Laura dice Io ho conosciuto e conosco Valeria Persona fantastica Grazie Però io voglio capire una cosa Ah c'è un'altra C'è una invece che ha detto Dov'è qui C'è anche chi dice Ah strano Ci si reincarna dopo cento anni o più Ma Sandra Felcini Tu come fai a saperlo? Che ne sai tu? Ti posso dire che Battiato Battiato addirittura Mi ha detto che si stava già reincarnando Claudio Rocchi Dopo poco dice che adesso le cose sono Addirittura molto più veloci Tutto è diventato più veloce Sì E poi nel mio caso Io avevo lasciato molte cose in sospeso Perché io sono morta molto Avevo 36 anni quando sono morta E ho lasciato quattro figli piccoli E devo dire Guarda Al di là di tutto Avere coscienza delle proprie vite passate Dà molta pace Perché ti aiuta ad accettare la tua situazione Quando io ho scoperto che ero stata la moglie di Mario Mi ha fatto capire molte cose Mi ha fatto accettare la vita che ho in questo momento E tu mi hai chiesto come ho scoperto Allora per tanti anni ho avuto tutti questi ricordi che avevo Questi flash che avevo Poi però per varie vicissitudini Io diciamo ho messo da parte la mia parte diciamo medianica Ho vissuto all'estero per molti anni Ho studiato Tra l'altro sono un'archeologa biblica Rede Ti interesserà sapere Ho scavato in Israele per vari anni E l'ho fatto proprio perché volevo capire esattamente La fede cristiana Infatti ne sono uscita Però questo è un altro discorso Comunque nel 2016 Io mi ricordo una sera Io stavo guardando su YouTube Cercavo un video di canzoni degli anni 50 E mi è capitato un video di Mario Lanza Io non l'avevo Non l'avevo visto mai Cioè l'avevo visto Una volta avevo visto un film Molti anni prima Quando ero piccola con mio padre E mi era rimasto impresso Quando io ho messo quel video Era Be My Love Una delle sue canzoni più famose Io mi sono messa a piangere Ho sentito un'emozione fortissima Ma un coinvolgimento Infatti io dicevo Oddio ma sono impazzita Piangevo Non riuscivo a capire Perché sentivo questa grande connessione Con quest'uomo E io poi da lì ho cominciato Ad ascoltare le sue musiche Avevo Sentivo fortemente questo legame Poi ho chiesto alla mia collega Guida turistica Perché ho fatto la guida turistica Per molti anni Siccome lei si interessava di astrologia Gli ho chiesto Per favore guarda se Nel mio tema astrale C'è questa connessione Con questa persona Perché ovviamente Dal tema astrale Si può capire Si possono capire Si possono individuare Le vite passate Lei questa cosa Non l'ha mai fatta Però nel 2017 Morì mia madre E così ho deciso Di fare un viaggio in Egitto Con questa mia amica E così nel 2018 Nel febbraio del 2018 Noi siamo andati in Egitto Tra l'altro è stato Un viaggio memorabile Perché abbiamo avuto tantissime esperienze Di tipo paranormale Perché anche lei Ha questi doni E una delle ultime sere Che stavamo al Cairo Stavamo in albergo Dovevamo uscire Dovevamo andare con degli amici Del nostro gruppo a cena Lei a un certo punto così Mi ha detto Valeria Cerchiamo di capire Chi eri per Mario Facciamo una costellazione E così abbiamo fatto la costellazione Lei a un certo punto ha detto Va bene io faccio Mario E tu fai E mentre lei dice tu fai Io non ero più Valeria Io ero Betty E ho visto Mario Non vedevo lei Io vedevo Mario E Io piangevo Mi ricordo che piangevo E lui mi diceva Io devo andare E io dicevo No non andare Io ti ho dato quattro figli E lui mi diceva Io non ti amo più E stava per andare via E io piangevo Piangevo Siamo usciti Per così dire Dalla costellazione E io Sono Ero Ero Esterrifatta E in quel momento È stato come se si fosse aperto un portale Perché ho cominciato a sentire molto forte La sua presenza fisica E sentivo lui Che mi diceva Perdonami Perdonami E io quella sera A cena Non ero lì con loro Io ero Proprio dall'altra parte Sentivo lui La sua presenza E sentivo Questo perdonami 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 Da quel giorno Ho cominciato a sentire La sua presenza Sempre più forte E Non mi sembrava possibile Al punto che ho chiesto Alla mia amica Sensitiva Ma è vero Dimmi tu Io non le ho detto Tu vedi qualcuno con me E lei mi disse Sì c'è un uomo Un giovane uomo vicino a te Che è molto innamorato di te E me l'ha descritto E poi Tramite lei In quel momento Mi ci ha fatto parlare E E lui Tramite questa mia amica Ha detto Io ti ho cercato Per tanti anni Ti ho cercato Per tanti anni E E E Tramite la mia amica Mi ha fatto delle domande Su dei ricordi Ho detto Ti ricordi quando ballavamo E io ho detto E io Lì per lì Mi sono sentita spaisata Poi però Ho cominciato a ricordare Sempre di più Dopo un mese Che io avevo aperto Questo portale È accaduta una cosa Molto strana Io per due o tre settimane Ho sentito un bruciore Qui sul Sul plesso solare E un bruciore forte Ma non Non mi dava dolore Ma era strano Non riuscivo a capire Cosa fosse Quindi sono andata Da dottore Ho detto Ma Qual è il mio problema Ho fatto varie visite E la mia dottoressa Mi disse Guarda tu non hai niente Non hai assolutamente niente Io continuavo a sentire Questo bruciore continuo Forte Ma ripeto Che non dava un vero dolore E poi C'è stata una persona Appunto Questa mia amica sensitiva Che mi ha detto Guarda che è lui Che in un certo senso Si sta agganciando a te E io da quel giorno Da quel periodo Sento Proprio Questa presenza fisica Sul plesso solare Suo Tant'è vero che guarda Due settimane fa Sono andata a fare un corso Di terapie Gizzi e sene E dovevamo appunto Sentire L'altra persona E questa persona Che stava sentendo me Non riusciva Ad avvicinare la mano Perché sentiva Questa presenza Sul plesso solare Quindi per dire che Ti dico che È una storia Talmente bella Che Anch'io ho avuto Dei dubbi Perché anch'io Mi sono detto Oddio ma è davvero così E guarda Mario In tutti questi anni Dal 2018 Non c'è giorno Che non mi faccia Avere un segno Non c'è giorno In cui non mi faccia Sentire il suo amore Io poi lo sento Lui Viene sempre a sinistra E sento i suoi baci Senso il suo tocco E mi ha fatto trovare Delle medagliette Mi ha fatto trovare Di tutto Mi ha fatto trovare E poi Guarda Una delle ultime cose Che mi è successo È che A febbraio Mi sono fatta fare Il quadrastrale Da un astrologa Neozelandese Io a lei Non avevo detto niente Un giorno Lei mi ha scritto E mi ha detto Sai Valeria Io non riesco a fare bene Il tuo quadrastrale Perché ogni volta che inizio Viene lo spirito di un uomo Che dice che è tuo marito Anzi mi ha detto di dirti Che tu lo sai già Ma lui ti ama E io non ti dico E poi mi ha detto È un cantante Mi ha detto che si chiama Mario E io guarda Ti dico Cioè lui mi fa avere i messaggi In continuazione Tra l'altro Tra l'altro Tra l'altro Sai che abbiamo avuto Quattro figli Di questi quattro figli Soltanto una è ancora viva Elisa Che sta in America Los Angeles Non ti sento Scusa Perché avevo messo muta Infatti stavo proprio per chiederti Sì Ma tu Hai avuto contatto con i figli Che hai avuto con lui Nell'altra vita? Allora sì Gli altri Tre purtroppo sono morti Ma Elisa La seconda È ancora viva E io Tra l'altro Nel 2019 Sono andata A una riunione di Fandi Mario In Inghilterra Senza dire niente E c'era lei L'ultimo giorno Quando molti erano già partiti Ho avuto La fortuna Il dono Di pranzare con lei E altri fan E lei si è seduta Esattamente davanti a me E Abbiamo cominciato a parlare E io Le ho detto Tra l'altro È una cosa Guarda È una cosa strana Perché io le ho detto Ma lo sai che tua mamma Cioè Betty È nata il 28 ottobre Del 1922 Che è la marcia su Roma No? Mussolini E lei si è messa a ridere Ha detto Sì Tant'è vero che la mia tata A Roma Ci raccontava filastrocche Sulla seconda guerra mondiale Che appunto Filastrocche che prendevano in giro Mussolini E poi lì ci siamo messi a chiacchierare A un certo punto E le ho detto Ma tu credi alla reincarnazione? E lei mi ha detto Sì Sì ci credo E a quel punto Lei ha cominciato A raccontarmi Delle cose di sua madre Io non le avevo chiesto niente È stata lei Che spontaneamente Ha cominciato a raccontarmi Delle cose di sua madre Tu non puoi immaginare L'emozione che io provavo Io guarda Se avessi dovuto seguire il mio istinto Sarei balzare in piedi E sarei corsa ad abbracciarla Però ovviamente dovevo stare lì Non potevo Non volevo E quindi La sono stata ad ascoltare Alla fine della cena Lei si è alzata Ed è venuta da me E mi ha abbracciato Guarda Avevo il cuore che mi scoppiava Tu non puoi capire Poi quando ho deciso Di scrivere il libro Che è stato durante la pandemia Io le ho scritto Dicendo guarda Però le ho scritto in modo anonimo Dicendo guarda Io sono tua madre Ho scritto un libro Con tutti i ricordi che ho Voglio che tu sappia Che tuo padre e Dio Non vi abbiamo dimenticato A voi figli E che vi amiamo E poi le ho mandato il libro E all'inizio in maniera anonima Poi dopo le ho scritto Dicendo guarda Sono io Mi sono presentata Le ho ricordato E quel nostro incontro In quel meeting di fan Lei non mi ha mai risposto Però Mario mi ha detto Che ognuno sceglie Lei ha scelto Di non rispondermi Io ci ho sofferto all'inizio Però Giustamente Ognuno sceglie E lei ha scelto così E poi non tutti Credono veramente Alla reincarnazione Io penso Sì Me lo immagino Che per lei Sia solo sconvolgente Una cosa del genere Però se qualcuno Venisse da me E mi dicesse Guarda Io so che Tu sei Tu sei la reincarnazione Io non mi stupirei Però ovviamente Per me Per me è una certezza Quindi io Non avendo dubbi Hai ragione Hai ragione Secondo me Non lo so se tu hai fatto bene A non dirle nulla In quell'occasione Probabilmente sì Però io non avrei resistito Guarda È stato E poi guarda Io sono impetuosa Come natura Guarda È stato veramente Dura Non ti sento più Sei impetuosa Non me ne sono accorto Mi sembri così calma Misuri le parole Prima di dirle Parli molto lentamente Proprio Sei calma Appunto Ma da un impetuosa Come te Mi aspettavo Un intervento A gamba tesa Ecco Cioè Dicendo Sono tua mamma In un'altra vita Puoi crederci o no Però io lo sono Però guarda A me è bastato Quell'abbraccio Che lei mi ha dato Spontaneamente Forse Forse sei più saggia tu Quindi Probabilmente Sai Bisogna trovarsi In queste situazioni Per Per capirle Allora Aspetta che c'è Allora Lanza mi dicono Era un gran bell'uomo Sì Era bellissimo Il problema era Certo io sono un po' di parte Il problema era Che lui Era molto sensibile E quando soffriva Quando non si sentiva capito Lui mangiava E beveva Ahia E questa cosa L'ho portato alla morte Perché lui Faceva queste diete Per fare i film E poi Puoi ripetere Il nome Lei si chiama Valeria Pugiotto Pugiotto Il libro che hai scritto Ce l'hai lì Me lo fai vedere Eccolo qui Mario Mettilo Mettilo Aspetta che te lo Mettilo così Ecco Questo qui Mario ed io Ecco Questa è la foto Di voi due Giusto? Sì Ecco Ma si trova ancora Quel libro lì? Sì sì Si trova Sì certo che si trova Online Su Amazon Su vari siti Insomma Si trova Certo che si trova Ok Che bella storia Si ascolta davvero Con piacere e curiosità Cioè Questa dice Che è stata in un'altra vita Con Lanza Sì Sì Gianluca Perché? Che Se tutti conservassimo La memoria Ricordi cosigniti Delle vite precedenti Sarebbe meravigliosa Come si fa A sviluppare Questa capacità Allora Non è detto Che sia meraviglioso Perché Allora io Scusami Se nell'altra vita Lei che ne so Aveva Si era lasciata male Con Mario Sapere che Non è Cioè Tu non puoi sapere Il perché Tu accetti di Incarnarti Che ne so Accanto a tua moglie O a tuo papà A tua mamma Magari Se sai che Uno ha ucciso l'altro In una vita passata Che vi siete ritrovati Per sanare questo Non è una cosa Molto fantastica Comunque guarda Red Io volevo dirti Che Raggiungere Tutto quello Che ti ho detto Io ho fatto Due ipnosi regressive Di cui una Negli Stati Uniti A Philadelphia Tra l'altro Con una allieva Di Jan Stevenson Che è stato Uno dei primi A studiare Lui era Uno psichiatra E stato uno dei primi A studiare I casi di reincarnazione A livello Troppo scientifico In modo scientifico E io ho fatto Questa regressione Con questa Carol Bowman Che lei ha pubblicato Vari libri Di storie di reincarnazione Di bambini E l'ho fatto Durante proprio Un mio soggiorno A Philadelphia Dove era andata A partecipare A un ballo In onore di Mario Che si fa ogni anno A Philadelphia E quindi ho passato Questo pomeriggio Con questa Carol Bowman Lei ha registrato Perché io ovviamente Non mi ricordavo niente Quando mi sono svegliata E io ho rivissuto Il funerale di Mario E il mio dolore Un dolore immenso Che io mi sono portata In questa vita E sono Soltanto da poco Sono riuscita A elaborare Un dolore Guarda Io non riesco A sentirla tutta La registrazione Per le urla Proprio Di dolore Che ho avuto E una cosa che Bella Che io ho rivissuto La mia morte E quando io Ho rivissuto La mia morte Quando sono uscita Dal corpo La prima Il primo spito Che ho rincontrato Che ho incontrato È stato lo spito Di quello Che poi è diventato Mio padre In questa vita E mio padre In quell'occasione Mi ha detto Stai tranquilla Che tra poco Ci ritroveremo Perché È importante Anche il mess Sapere Che ritroviamo Le persone Che amiamo Per esempio Con mio padre Siamo stati Legati in tante vite Con mio padre Anche con mia madre Mio figlio Quello che Adesso è mio figlio In questa vita Con mio fratello E sono I famosi gruppi Di spiriti O famiglie Di spiriti Ci ritroviamo tutti E quindi Il primo Che ho incontrato Non è stato Mario È stato Quello che poi È diventato Mio padre In questa vita Quando io Sono triste Perché ci sono Dei momenti In cui Ovviamente È un momento Difficile Io so che sono Tornata Perché dovevo Risolvere Delle cose Carmiche Diciamo Ma anche perché Dovevo partecipare A questa lotta Che c'è in questo momento Questo mi è stato detto Ma ci sono dei momenti In cui faccio molta fatica A stare sulla terra E dico Voglio andarmene a casa Voglio venire da te E lui mi dice sempre Tu hai scelto Di tornare Hai ancora Delle cose da fare È lui che mi dice Poi mi dice pure Stai tranquilla Perché poi La prossima volta Torniamo insieme Però lui sempre Mi ricorda Tu hai scelto E poi Appunto C'hai ancora da fare Ok Ok Allora Valeria Tu hai un figlio Sì Significa che hai avuto Un compagno Che hai un marito Allora Sì Ho avuto un marito Americano Che ho sposato Perché in realtà Non lo amavo Lo devo dire sinceramente Ma volevo andare in America E E mi ha portato esattamente Dove volevo andare A Los Angeles Ma da lui Non ho avuto mio figlio Mio figlio L'ho avuto da quello Che doveva diventare Il mio secondo marito Che era svedese E E Quando mio figlio È stato concepito Io sapevo Che lui era tornato da me Che 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 lui era Un'anima con cui Ero già stata Connessa Sì E comunque Riderai Red Ma mio figlio Crede nella reincarnazione E quando litighiamo Lui spesso dice Chiedi a Mario Se non ho ragione Senti una cosa E quel Il padre Di tuo figlio Il padre di mio figlio È scomparso Quando io ero incinta Di quattro mesi Quindi sono una mamma single E infatti In questa vita Ma scomparso In che senso? E se n'è andato Se n'è proprio andato È partito È restato con sua madre Ho capito Era un mammone Quindi Sì Sì Diciamo che Ti è servito Per rincontrare Tuo figlio Da un'altra vita Sì Ma Sì Ma È tutto parte Del piano Perché Lo so Perché Dimmi Perché Perché Nella vita passata Io dipendevo Troppo da Mario Sia affettivamente Che anche Materialmente Perché io non lavoravo Parte della mia missione In questa vita È imparare A stare In piedi Da sola E quindi Sono una mamma single E Lavoro Da sola Sono una professionista Una libra professionista E Dove abiti adesso? Nelle colline di Bergamo Dove abiti? Abito in una valle bellissima Che si chiama Valcavallina Valcavallina Che cosa fai nella vita? Che cosa faccio? Faccio tante cose Faccio traduzioni dall'inglese Insegno inglese Insegno italiano agli stranieri Sto per scrivere un altro libro E poi C'è questo progetto Di questo film Sulla vita di Mario Ok Tu mi hai detto Che sei tornata Per rendere anche giustizia a Mario Ma perché? Quale ingiustizia ha subito Mario? Cioè io non so Non conosco la vita di Mario Lanza Allora perché Dopo che lui è morto Hanno scritto Dei libri In cui Mario viene fatto a pezzi In un modo o nell'altro Forse il libro più scandaloso È il libro di quello che Lui considerava il suo più grande amico Terry Robinson Che è veramente Un libro Proprio da bruciare secondo me E poi perché Comunque lui è stato È stato dimenticato Se tu pensi che Domingo Pavarotti Carreras Tutti hanno dichiarato pubblicamente Che sono diventati Cantanti D'opera Perché hanno visto Il grande caruso Di Mario Lanza Perché volevano essere come lui Volevano imitarlo La Callas Quando è morto Mario Ha detto Che Gli era dispiaciuto Di non aver potuto cantare Con la voce più bella Del secolo Toscanini stesso Ha definito Mario Lanza Il più grande tenore Del ventesimo secolo E Poi lui è stato dimenticato Perché lui Invece di cantare Il teatro dell'opera Lui ha fatto dei film Per Hollywood E poi appunto Ne hanno sparlato In tutti i modi E Io Sono rimasta La moglie fedele Che Lo protegge In un certo senso Ho capito Senti una cosa Tra l'altro I tuoi due Il tuo precedente marito E il papà di tuo figlio Se ne sono andati Per la sera E posto a Mario Che doveva tornare Perché altrimenti Non so come potesse fare Un uomo Stare vicino a te Quando tu ti dichiari Questo amore Per questo Mario E io Non gliel'avrei permesso io Guarda Stai tranquillo Esatto Allora 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 Una storia d'amore stupendo Io non riesco a trovare Uno straccio di uomo Allora Tanto per cominciare Vedi Vedi Io non riesco a trovare Uno straccio di uomo Allora Il fatto che tu definisca Un uomo Uno straccio Come vuol dire Che ti accontenti Proprio di Esatto E invece Dei puntare più in alto Andiamo Poi dopo Se si era incarnata Dopo sette anni Come ha fatto A conoscere Il suo attuale papà Nell'aldilà Perché una parte Perché una parte Anche quando ti rincarni Una parte del tuo spirito Rimane dall'altra parte È quello Che io ho detto Con Sonia Benassi Che ho detto Ma io Come faccio Certo Come fai a parlare Con Con un mio amico Che se n'è andato E se si è Reincarnato Già Lei mi ha detto Guarda che Ci sono C'è una netta distinzione Tra il corpo fisico E lo spirito Lo spirito È sempre Nell'altra dimensione Esatto Ok E poi È anche qui dentro Se io Magari dialogo Con un mio amico Che è spirito Ok E magari adesso È incarnato In un bambino Che è appena nato Però lui Come spirito È sempre là Quindi lei Ha parlato Con quello Che dice Sta tranquilla Sarò il tuo papà Perché è lo spirito Nell'altra dimensione Le anime Ci sono tutte Hai capito Ogni tanto Una scende Pum In un corpo Vabbè Andiamo avanti Red Prima Non credeva Credeva che non fanno bene Le ipnosi Almeno mettetevi d'accordo Allora Io non sono Per fare Le ipnosi Allora Prima di tutto Le ipnosi regressivi Se le fai Per sfuggire Da una realtà Che hai O per capire Cose che non capisci Non le capirai mai Le regressioni Succedono Per una Ma devi essere A dei livelli Molto già alti Di evoluzione Io Non sento Il bisogno Di sapere Chi ero Nelle vite precedenti Anche se In due occasioni Mi hanno detto Chi ero Mi amico Bruno Dice che eravamo insieme Su un'astronave Nelle Pleiadi Adesso lui Non c'è neanche più Però io non lo so E non mi interessa Lui mi chiede Vuoi fare Delle regressioni No È una scelta Che ognuno fa Quindi Guarda Nel caso di Carol Bowman L'ho fatto solo Per confermare Dei dettagli Che succedeva Nell'800 Senti una cosa Ma tu Hai visto dei video Di Mario Con la moglie Certo Ultimamente Sì E ti ricordi Quei momenti Alcuni Sì Molto bene Allora C'è un bel film Che racconta Di questi gruppi Di animi Che si rincontrano Vita dopo vita Si chiama E la vita continua È brasiliano Ed è sottotitolato In italiano Allora Strepitoso Sì Io e mia figlia Ci adoriamo In questa vita Ed invece Eravamo nemici In una vita passata È ritornata Vicino a me Per riscattare Il male Che ci siamo fatte Mia nonna In questa vita Mi ha cresciuta Fin da piccolo Come una madre Nella mia vita precedente Era davvero mia madre L'amore e l'energia Ci lega all'infinita Questa donna È un uragano Chi si ama Si ritrova Anche chi si odia Ahimè Non ahimè Buono Perché devi sanare Quello che è successo Le anime Si incontrano Esatto Per sistemare Quello che avevano In sospeso La regressione Un grande aiuto Per l'anima Grazie per la testimonianza A un vivos Indirecto Anni Sivodan Non so cosa sia Cos'hai citato A un vivos Indirecto Forse risponde A qualcuno Che gli ha fatto Una domanda prima Domanda per Valeria Ti è mai pesato Rivivere il passato Come Non detto Che rispondendo In parte Non ho capito Ti è mai pesato E non rivivere il passato Diciamo che ci sono Delle vite In cui so che Ho sofferto Per esempio So che nel 1248 Sono stata bruciata Come strega E ho rivissuto Quando mi hanno Trascinato A rogo E beh ma Eri troppo Eri troppo Eri troppo Sei troppo impetuosa Vedo Una donna così Esatta Una donna così Ragazzi Quindi Io adoro Mario Lanza Bravo Lo ascoltavo Con mio nonno Sono cresciuto In mezzo alla lirica Sei una donna stupenda Per esempio Io per esempio Ho sempre avuto La fissa Che il periodo Del romanticismo Chissà Allora Scusa La mia ignoranza In materia Ma dal 1960 Anno in cui È morta Betty Al 1901 In cui si è rincanata Cosa ne è Dello spirito Della persona Sta in un'altra dimensione Vede le vite Perspassate Decide che cosa fare Vive Vive In quello Che La Chiesa Cattolica Dice paradiso O eccetera Che si dice D'altra vita Allora Penso che Ricordarci Oh Christian Delors Completamente La vita passata Possa essere Deleterio Vedi A me È servito Per capire Tante cose Di questa vita Invece no Secondo me Non lo è Ti faccio un esempio In questa vita Allora Io sono stata Molto In molte più vite Sono stata uomo Che donna Ed ho dei ricordi Molto distinti E nella maggior parte Delle mie vite Da uomo Sono stata un guerriero Per esempio Sono stata un templare Sono morta nel 1187 Alla battaglia di Hattin E fin da piccola Io amavo le spade Ma tutte le armi antiche Comunque In generale Non le armi moderne E in questa vita Sempre Amo molto Tutto ciò che è militare Lo amo Quando ero Betty Quando ero la moglie Di Mario La stessa cosa Praticamente Avevo il reggimentano Tutta la famiglia Avevo Scrivevo degli orari Precisi Per i figli Per il marito Per tutto Questa cosa Delle cose militari Dessere guerriero Me la sono portata In tutte queste vite Fino a questa vita qui Anzi In questa vita Ho fatto anche il militare In Inghilterra Per due anni E È bello Perché ti rendi conto Di tante cose Di te stesso Di te stessa È meraviglioso E poi La cosa bella È che Annulla Ogni pregiudizio Ogni Se tu sei cosciente Di esserti rincarnato Sei stato tutto E quindi Non puoi avere pregiudizi Non puoi essere razzista Non puoi amare Tutto il mondo Non puoi non amare Tutto il mondo Tutte le persone Tutte le loro scelte Guarda La cosa più sconvolgente Per me È stato scoprire Che mio padre Ed io In un'altra vita Eravamo avanti lesbiche E quando l'ho scoperto Sono rimasta sconvolta E me l'ha detto mio padre E lui rideva Come un pazzo E dice Fermati Fermati Come tuo padre Ti ha detto Che eravate Cioè Allora siete tutti scappati Di casa Nella tua famiglia No Mio padre Mio padre è morto Nel 2012 Dici questa cosa L'ho scoperta un anno fa Me l'ha detto un anno fa Mio padre Ah te l'ho detto un anno fa Dall'altra dimensione Ah ragazzi Mamma mia Ma che serata è questa qui Eh Cioè ma che sta succedendo qui Le vite che si incatenano Che si incrociano ragazzi Mamma mia Quello però Quello è un altro libro Quello è un altro libro Ah Hai capito Mamma mia ragazzi Ci ritroveremo sempre Sì Ah c'è una risposta Dunque Una aveva scritto Una storia d'amore stupenda La tua Io non riesco a trovare uno straccio d'uomo Ed eccolo qui Gabriele Gargano Sono uno straccio d'uomo Eccolo qua L'hai trovato Hai trovato lo straccio d'uomo Quindi contattatevi Quindi allora Sonia May Contatta Gabriele Gargano E hai trovato il tuo straccio d'uomo Ragazzi ormai facciamo anche Le aziende matrimoniali Qui c'è tutto ragazzi Allora Sonia May Chiedi E ti sarà dato Vedi Ecco Mamma mia ragazzi Allora Isabella De Mico dice Io vivo l'amore come lei Con mio marito Quando l'ho visto per la prima volta È stato come tornare a casa Dopo tanta fatica Vedi Bello È così Poi La cosa bella è quando Lui mi manda Poi la cosa bella è questa Voglio conoscere Mario Lanza Vado ad ascoltare subito la sua voce Grazie Valeria Vedi Quindi tu stai Tu stai Pensa 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 L'incrocio Un incrocio da film Allora Tu stai Pubblicizzando Mario Lanza Ok Sì Che vende più dischi Sì I cui diritti vanno Alla tua figlia della vita passata Che non vuole parlare con te In questa vita Mamma mia Non le voglio fare Sì certo Ma le stai Stai portando anche notorietà Al suo papà Che era tuo marito Che tu sei sua mamma In un'altra vita Ragazzi Che casini ragazzi Porca vacca Vabbè 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 Allora Abbiamo qui Betty Sua moglie Sentiamo cosa ti dice Adesso Betty Di vai Betty No Ha cantato Ha fatto la madama butterfly In realtà Soltanto per due volte Per due serate Però l'ha fatto Poi lui aveva imparato 15 opere Però non ha mai avuto La possibilità Perché non si sentiva Mai pronto abbastanza Lui aveva un problema Di autostima Era molto fragile Era sensibilissimo È sensibilissimo Lo è ancora Certo Allora Allora Il nostro inglese È appassionato Di Mario Il nostro vicino inglese È appassionato Di Mario Lanza Lo canticchia sempre È per lui che lo conosco Saluti da Sheffield Alessandro Questa donna È straordinaria Ecco Poi A conferma Di quello che Ha detto Valeria Posso dire Che io Che era amico di Pavarotti L'ho interessato Mi ha parlato Di Mario Lanza E io rimase stupito Perché Noi conosciamo Caruso Pensavo Esaltassero Con l'invice Ma parlava di Mario Lanza La voce di Mario Lanza Io rimase Perché anche Nel mio Nella mia Prima di incontrare Valeria Che è stata la sua moglie In una vita precedente Io credo che Mario Lanza Fosse davvero Un attore Soprattutto un attore Più che un tenore Quindi Allora Bellissimo Quello che sta vivendo Secondo me tutti Dovrebbero sapere Almeno la vita precedente No Vivi la vita Che devi Viverla E il film La vita continua Stupendo Mi è piaciuto Anche non solare Allora Mamma mia Di solito Scrivo sempre Anche cazzate Ma stasera Mi piace ascoltare Per non dirne altre Molto interessante Da serie tv Senza offesa Carmine Produce una serie tv Ma che me frega Vedi Vedi Allora Devo dire Che è successo È andata via La corrente Spero di essere Ancora in onda No Lei è saltata Mi è saltata A Dovrebbero sapere A E A 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 Grazie per la visione